Buonasera, benvenuti, bentornati, questa prospettiva di volti, mascherine, occhi, e credetemi bellissima, vi consiglio di, solo che una volta fatto il giro ce ne sono di meno, però è una bellissima prospettiva, è un orizzonte visivo e umano, grazie quindi a tutti voi. Continuiamo questo itinerario nel respiro, in questo gesto, atto che è il più involontario e al tempo stesso incontrollabile della nostra vita, perché respiriamo volenti o nolenti, per smettere di respirare bisogna compiere dei gesti drastici, ma non riusciamo a smettere fisicamente questo atto, dobbiamo farne altri, altra violenza verso noi stessi. Il respiro appunto è qualcosa di fondamentale, involontario, ma anche incontrollabile nella nostra vita. Oggi però con Vito Mancuso, che tutti voi conoscete molto bene per i suoi libri, le sue parole, affronteremo un altro aspetto che è quasi opposto a quello di un gesto involontario e fondamentale e incontrollabile, quello dell'ispirazione, che prende parola dalla stessa radice, che è apparentemente lo stesso gesto, ma in fondo il suo contrario, perché è il confronto con quella parte di noi e quella parte che sta sopra di noi, che è la volontà, la coscienza, l'insieme dei desideri e dei nostri desideri appunto più elevati. L'ispirazione è quella cosa che ci coinvolge pienamente e che ci trasporta sempre in un altrove. A questo punto naturalmente io cedo la parola a Vito Mancuso, vi dico soltanto che lui è disponibilissimo a firmare copie del suo libro, alla fine della sua lezione lo troverete sotto quella tenda dei libri e sarà a disposizione per la firma copie. Grazie a tutti e buon ascolto. E grazie naturalmente a Vito Mancuso. Buonasera e grazie della vostra attenzione Grazie a tutti e grazie a tutti. La conferenza, relazione, ispirazione, due punti, il respiro della mente e del cuore è proprio così, come i polmoni, come i polmoni si possono, si aprono e si restringono. Allo stesso modo anche la nostra mente si apre e si restringe e allo stesso modo anche il nostro cuore si apre e si restringe. tant'è che chi ci ha preceduto è giunto a qualificare i grandi uomini col termine, per esempio usando la sostantiva magnanimità. ecco l'animo grande che diventa grande, che si espande, così come i polmoni si possono espandere, respirano e sono sani e fanno il loro mestiere. allo stesso modo anche la mente e così come i polmoni si possono ammalare per tutte le malattie respiratorie di cui queste mascherine che portiamo sono testimonianza, allo stesso modo anche la mente e il cuore. lo sappiamo bene, si possono restringere e ammalare e infettare e diventare infettivi. Anche la mente, anche il cuore, anche ciò che esce dalla mente e dal cuore può essere un respiro di sollievo, qualcosa che solleva, qualcosa che immette energia positiva e viceversa può essere qualcosa che deprime, che ti tiene sotto, che ti fa ammalare, che ti restringe. Ci sono pensieri positivi, sentimenti positivi, pensieri che vengono dalla mente, i sentimenti che provengono dal cuore e lo sappiamo benissimo negativi. E noi abbiamo capito, gli esseri che ci hanno preceduto, i nostri antenati, hanno capito che la qualità umana dipende dal respiro della mente e del cuore. Un grande uomo è una persona, un grande uomo, una grande donna, volevo dire un grande essere umano naturalmente. Nei miei libri sto sempre attento a non usare il termine uomo, uso sempre essere umano, nel linguaggio non mi viene ancora così spontaneo. Un grande essere umano è colui o colei che respira ampiamente nella mente e nel cuore e fa respirare altrettanto gli altri. Quindi è una grande anima, Mahatman, come gli hindù qualificano i loro grandi uomini. Noi soprattutto conosciamo il Mahatma Gandhi, ma ce ne sono altri nella tradizione grande. Anime, anime. E anima significa, come voi sapete, la radice del termine anima o animo. Anima o animo la radice è l'aria. Animos in greco evento. Come Atman in sanscrito, anzitutto evento. E quindi eccoci ancora a che fare con il respiro, quasi a captare un'aria diversa. C'è l'aria fisica e senza la quale non saremmo, ma c'è anche un'aria di un altro tipo. Captando la quale la nostra mente si allarga, il nostro cuore si allarga e senza la quale, o quando quest'aria diventa cattiva, la nostra mente si chiude e il nostro cuore si chiude. Ecco, parlare dell'ispirazione significa parlare di questo, di questo respiro largo, ampio, e di questa capacità di avere pace dentro di sé e di diffondere pace fuori di sé. Questo è l'ispirazione. Poi lo vedremo, adesso sto facendo l'introduzione, poi prendo in maniera più analitica la scaletta che ho preparato e la percorro. vedremo che l'ispirazione dove nasce, come si esprime, però prima di tutto volevo, proprio mentre ero lì dietro e mi preparavo, nel senso che mi concentravo, per questo che dicevo, mi è venuta questa domanda a fare a me stesso, ma senti un po', prova a elencare dei sinonimi di ispirazione, per capire cos'è. No, voi avete a che fare con un concetto, spesso dici come posso dirlo in un'altra maniera, qual è un sinonimo, oppure anche un contrario naturalmente. E ho scritto queste parole, ho scritto illuminazione, visione, intuizione intellettuale, sono sinonimi di ispirazione. Non so, vi è mai capitato, ma io penso di sì, perché penso che a tutti gli esseri umani sia capitato di sentire che arriva qualcosa di sorprendente, di sconvolgente, di avvolgente, di travolgente, di nuovo, di inaudito, qualcosa che non viene da te. E arriva come una connessione, uno si connette, non c'è niente di magico in tutto ciò, ma tuttavia la natura, quella abituale, viene superata, o approfondita, perché il paradigma che rompe la superficie può essere sia verso l'alto o sia verso il basso, è più profondo, vuol dire che è meglio di ciò che è superficiale, oppure dite è più alto, è sempre meglio di ciò che è superficiale. Il paradigma si può giocare o nel basso, o nella profondità, o nell'elevazione, ma rimane che la superficie viene infranta. E io penso che a tutti sia capitato, in certi momenti della vita, di sentire che quella rottura della superficie non è opera tua. Senza di te, senza il tuo lavoro precedente, senza le tue letture, quella non potrebbe avvenire. Io non potrei mai essere ispirato e concepire una teoria fisica innovativa, è evidente che no, o una musica particolare, è evidente che no, non ho studiato nella prima, nella seconda disciplina, non sono un fisico, non sono un musicista, nessuna ispirazione di questo genere mi potrebbe arrivare. Chiaro? Quindi esiste nel soggetto una predisposizione, un lavoro, un lavoro di anni, serio, per quanto è possibile a un essere umano, serio, quotidiano, quotidiano, onesto, che quindi guarda anche a quello che ha fatto e guardando quello che ha fatto lo rivede, dice qui è sbagliato, qui sono stato superficiale, cioè un lavoro di uno che, come dire, che guarda il proprio lavoro non per, come posso dirlo, non per innalzare il proprio ego, prendendo i propri libri come messi tipo piedistallo uno sopra l'altro, uno si mette sopra i libri e dice guardate come sono grande, e i libri servono ad innalzare, no, al contrario, i libri sono, come dire, un'espressione del lavoro e quindi vanno continuamente rivisti, 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 e quello che conta è qualcosa di più dell'ego. Quindi, quando io dico ispirazione, dico che esiste una serietà del lavoro e tuttavia questa serietà del lavoro, questa lunghezza, questa preparazione, non è tale da giustificare, da spiegare completamente l'irruzione, l'irruzione, l'improvvisa illuminazione, l'intuizione intellettuale, qualcosa che arriva. È proprio una sinergia, non so se riesco a spiegarmi, proprio una sinergia di libertà e di grazia, per dirlo in maniera teologica. Libertà e di grazia. Cioè una libertà che si dice come responsabilità, come lavoro, ma che viene fecondata dall'alto, da qualcosa che è gratuito. grazia. E i musicisti lo sanno, e i poeti lo sanno, ma anche i fisici lo sanno. Ci sono descrizioni di teorie che arrivano così. Adesso a me quello che viene in mente, io amo tantissimo Vassili Grossman, che non è David Grossman, il noto scrittore israeliano, e Vassili Grossman, l'altrettanto noto, un po' meno scrittore, diciamo così, sovietico. Morì nel 1964, quando ancora c'era l'Unione Sovietica. L'autore del capolavoro, di Vita e Destino, e di tante altre cose. Ebbene, in Vita e Destino, il protagonista, mi viene in mente adesso questa pagina, il protagonista che si chiama Viktor Strum, è un fisico, è lo scrittore che era laureato in chimica, lui Vassili Grossman, quindi diciamo, aveva anche lavorato come chimico, quindi la scienza era il suo luogo, diciamo così, di formazione. Ecco, descrive l'illuminazione, descrive la teoria che arriva all'improvviso, così, camminando per strada. Ma se lo fai, perché altri fisici hanno parlato della, diciamo così, dell'intuizione intellettuale, del vedere la teoria, dell'idea che arriva, l'idea. Ecco, l'idea. Ecco la parola. L'ispirazione è in un certo senso, l'ispirazione in un certo senso è l'attività, è la cornice, ma il contenuto è l'idea. Idea, lo dice la parola, io lo ripeto spesso, non è l'opinione, come quando diciamo io ho le mie idee, non è l'opinione. L'idea, il termine greco lo dice, idein in greco, l'idea viene tale quale dal greco antico, è una delle parole che ha viaggiato negli anni, nei secoli, in mutata. La prendiamo, tale quale, stesso accento, stessa cosa, idea. E il verbo che la genera è il verbo idein, che in greco antico significa vedere, quindi idea significa visione. Ah, se tu non hai gli occhi non puoi vedere, evidente, ma se non c'è il mondo che ti si manifesta tu non puoi vedere. è molto diverso dall'opinione, dalla doxa, dall'opinione, dall'opinione, dalla pubblica opinione, ecco, non voglio, così, lasciamo stare. Invece l'idea, l'idea è qualcosa che ha a che fare con l'ispirazione, con l'illuminazione, con l'intuizione intellettuale, l'idea irrompe, si vede, arriva, e chiunque di voi ha fatto esperienza, lo ripeto, di una grande idea, questa è davvero una cosa comune, ha fatto l'esperienza di una grande idea, sente che è un dono, qualcosa che arriva, tant'è che voi potete avere gli stessi fisici, gli stessi filosofi, gli stessi artisti di vario tipo musicale, con la stessa preparazione, che quindi dal punto di vista, diciamo così, degli strumenti conoscitivi, sono pari, hanno lavorato tutti, onestamente, responsabilmente, ma a uno capita l'idea e genera un nuovo movimento artistico e apre una porta che nessuno pensava ci fosse, c'era una parete, dice come è una parete, nessuno mai, invece no, dice no, ti sembra chiuso, non è vero, guarda è aperto ed entra e penetra, dopo che è aperto lui questa porta che tutti pensavano inesistente, dopo gli altri passano, ma il primo che, e come l'ha fatto, perché? Idea, intuizione, tutte le cose innovative, profonde, hanno a che fare con questa, come chiamarla, fecondazione della nostra libertà con qualcosa di più grande, lo spirito ed eccoci al punto. Io adesso inizio a parlare, non è che adesso, adesso questo che ho fatto è il preludio, insomma, overture, come dire. Ho preparato una scaletta in quattro punti, il primo punto è spirito e poi connesso spiritualità e tenterò adesso di spiegare che cosa diciamo dicendo spirito e spiritualità. ed è importante per giungere al secondo punto per capire che cosa diciamo dicendo ispirazione, naturalmente, non si può parlare dell'ispirazione senza parlare dello spirito, senza capire, senza capire che cos'è, che cosa veicola questo concetto. Poi il terzo punto sarà dedicato all'ispirazione negativa, perché finora io ho parlato solo dell'ispirazione positiva, certo, sì, la gran parte dei cali, la gran parte, insomma, quando diciamo ispirazione pensiamo all'ispirazione positiva, alla creatività che viene suscitata, vero, verissimo, ma esiste anche una ispirazione negativa. e vedremo. E infine parlerò dei luoghi dell'ispirazione, come fare, come trovarla, è vero che arriva, ma è altrettanto vero che non arriva senza lavoro, l'ho detto prima. E quindi, e quindi come fare concretamente, come, come, come riuscire a connetterci con questa energia, con questo flusso, come fare, quali sono le vie, ecco, brevemente tenterò di, questa è la scaletta. Quindi, finora cosa ho fatto? Ho dichiarato che cos'è il centro, insomma, il respiro, il respiro della mente, il respiro del cuore, ho detto che la mente si può ammalare, ma al contrario si può anche generare tutte queste cose, ho parlato della grande anima, ho detto che l'ispirazione è sempre una connessione, una connessione di libertà, di lavoro, di responsabilità, di serietà e insieme però di grazia, e insieme però di esperienza, di trascendenza, di qualcosa che arriva e che non può essere dedotta drasticamente, matematicamente dal lavoro che hai compiuto. C'è sempre un'esperienza di gratuità. ho detto questo e adesso vediamo spirito. Allora, cosa intendiamo dicendo spirito? Ormai ho cominciato a parlare con l'Eggio Basso e continuo con l'Eggio Basso, va bene così. Vedete, secondo me noi dovremmo per quanto è possibile a noi esseri umani quasi ogni giorno fare questo esercizio molto semplice di suscitazione della meraviglia, di risveglio della meraviglia. noi dovremmo quasi ogni giorno ma scusate, ogni giorno trovare un momento nel quale considerare l'incredibile meraviglia di essere vivi e noi lo possiamo fare tanto più oggi alla luce dei dati che ci consegna la scienza, la fisica, l'astrofisica, per me è il fenomeno da indagare, il fenomeno che mi si impone proprio con questo senso del fauma greco, cioè della meraviglia, dello stupore, di una meraviglia che dà gioia e al contempo sorpresa e a volte anche un po' dolore, ma insomma il fenomeno vero e proprio primordiale è qual è? è il fatto che dalle polveri primordiali così come ci viene raccontato dalla scienza dall'esplosione del puntino cosmico primordiale siano scaturite le prime polveri che io le chiamo polveri primordiali perché sono un po' poetico loro le chiamano quark ogni diversi sei tipi e va bene che poi si mettono insieme si connettono e nascono i primi atomi e poi nascono i primi atomi si connettono e nascono le stelle e poi dentro le stelle la temperatura cresce cresce poi l'esplosione delle stelle poi atomi più pesanti e questi atomi più pesanti si cominciano a connettere formano molecole e le molecole sono sempre più grandi e poi si uniscono e l'unione delle molecole comincia a dare le strutture base per così dire le quali a sua volta gli acidi nucleici le proteine gli zuccheri i lipidi i quali a un certo punto questi sono i quattro componenti costitutivi della vita i quali su questo piccolo pianeta blu ma io penso anche altrove quasi quattro miliardi di anni fa cioè dopo un miliardo di anni che la terra non aveva vita quasi quattro miliardi di anni fa produce nasce la vita questo passaggio incredibile questo passaggio dalla materia inerte alla materia vivente e noi diamo per scontato tutto questo ma è veramente qualche cosa di stupefacente e non è finita qui naturalmente perché poi dai primi organismi tutti voi lo sapete se ci fosse tempo se fosse su una filosofia della natura o una teologia della natura la conferenza allora mi fermerei di più ma arriviamo noi alla fine arriviamo noi che siamo vita intelligente e libera dalle polveri primordiali alla vita intelligente e libera quando diciamo spirito noi nominiamo la vita intelligente e libera noi non siamo solo vita intelligente e libera siamo anche vita biologica siamo anche bios certo e siamo anche zoe vita animale zoologia vita animale certo infatti l'antico greco aveva almeno questi tre termini per parlare di vita punto bios zoe e psuche psuche è l'anima 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 e l'anima è il termine che viene dal greco ma anche psuche è un termine onomatopeico soffio tant'è che significa anche farfalla qualcosa che vola ha molto a che fare con l'aria psuche appunto con il respiro e quindi aria respiro e quindi intelligenza quindi libertà ecco questo è secondo me il grande il grande fenomeno lo specifico umano esiste secondo voi uno specifico umano qualcuno lo nega che non esiste secondo me esiste sì esiste noi non siamo non potremmo essere senza le piante noi non potremmo essere senza gli animali ma noi non siamo riconducibili alle piante non siamo neanche riconducibili agli animali esiste uno specifico umano e qual è questo specifico è il vuoto non è semplicemente l'intelligenza perché anche le piante sono intelligenti ieri ho fatto un dibattito qui con Alessandra Viola sull'intelligenza delle piante tra le altre cose chiaro che le piante sono intelligenti perché l'intelligenza è elaborazione di informazione al fine di riprodursi e di nutrirsi prima nutrirsi poi riprodursi e quindi è evidente che ogni forma di vita è intelligenza e senza l'intelligenza non ci potrebbe essere vita chiaro che sì quindi lo specifico umano non è il fatto che siamo intelligenti forse uno dice siamo intelligenti di più ah sì per certe cose siamo intelligenti di più ma per altre cose siamo intelligenti di meno per esempio il mio cane ha un udito particolarmente sensibile un fiuto così molto di più del mio quindi lui per quanto attiene all'intelligere i fenomeni acustici per esempio è più avanti di me lo specifico umano non è dato dal fatto che siamo intelligenti il first hand direbbe direbbe il tedesco mi viene in mente la grande distinzione di Kant tra first hand e first hand lo specifico umano non è neanche la ragione che è già qualcosa che c'è solo un conto è l'intelletto un conto è la ragione la ragione simbolica la ragione che crea non solo opinioni ma idee la ragione che che ha visioni che crea storie simboli certo questo è molto importante per l'essere per l'essere umano così come è importante il sentimento ma lo specifico umano è il vuoto il caos l'indeterminazione il principio di indeterminazione non riguarda solamente la meccanica quantistica riguarda anche la meccanica umana antropica anche noi siamo indeterminati e lo siamo esattamente per questa energia libera che si muove dentro di noi e che ci rende il fenomeno più alto e più basso il contempo non più profondo più alto più profondo da un lato ma dall'altro più basso più abietto di tutto il pianeta poi non lo so della grandezza dell'universo ma certamente di tutto il pianeta noi siamo esattamente questo incrocio dei venti questa contraddizione incredibile e spirito il termine spirito che originariamente rimanda a vento è stato coniato dalla mente delle grandi civiltà il latino spiritus il greco pneuma o anche nus il ebraico ruach il sanscrito Atman è stato coniato esattamente per dire lo specifico umano c'è questa indeterminazione come il vento che non sai da dove viene e dove va che è imprendibile che è ingovernabile che non ha una forma che è indeterminato questo è lo spirito questo è lo spirito tant'è che tant'è che voi avete eccoci al punto voi avete lo spirito santo per stare nel diciamo così all'interno del cristianesimo e avete lo spirito immondo Dio è spirito ma guarda un po' anche l'antidio anche il demonio è spirito voi potete credere o non credere in Dio potete credere o non credere nell'esistenza del demonio del diavolo e così via ma penso che ogni essere pensante non possa non cogliere il fenomeno concreto legato all'esperienza umana che ha generato poi l'idea di Dio e l'idea del diavolo e cioè l'ambiguità della libertà ambiguità della libertà e l'essere umano è l'essere più ambiguo che esista sono cose antiche non sto dicendo niente di nuovo io le ripeto spesso queste cose ma vi vorrei invitare a leggere un libro uno dei libri più importanti che la cultura italiana abbia prodotto che il pensiero filosofico italiano abbia prodotto un libro bellissimo si legge in poco tempo lo scrisse Giovanni Pico della Mirandola nel 1486 il titolo originario latino è Orazio De hominis dignitate che si può tradurre discorso sulla grandezza dell'essere umano e lì Pico uno dei filosofi più importanti che il nostro paese ha avuto Pico giovanissimo morì a 31 anni questo lo scrisse che ne aveva 24 23 24 dall'intelligenza prodigiosa del grande mente grande cuore Pico che se fosse vissuto il secolo dopo cioè nel 1586 avrebbe fatto la stessa fine forse quasi probabilmente sì di Giordano Bruno già qualche problema con l'inquisizione pre-controriformistica l'aveva insomma Pico scrive questo libro e lì c'è proprio in maniera proprio detta in maniera poetica bellissima chiarissima che cosa esattamente la specificità di noi esseri umani che siamo spirito e dicendo spirito siamo rimandati al caos all'intelligenza libera libera di fare libera esattamente di creare armonia o distruzione di generare legami arte visioni buone positive idee politiche positive e il contrario questo è quindi quando diciamo spirito noi rimandiamo allo specifico umano e alla sua ambiguità quando diciamo spiritualità noi rimandiamo alla gestione consapevole intelligente e responsabile di questa nostra ambiguità facendo sì che questo nostro spirito sia per quanto è possibile a servizio dell'armonia non della disarmonia della giustizia non dell'ingiustizia della bellezza e non dell'oppressione della bellezza della verità e non della menzogna dell'amore e non dell'odio questa è la spiritualità la spiritualità è se lo spirito è intelligenza e libertà sia l'intelligenza sia la libertà sono ambigue la spiritualità è ciò che dà intelligenza alla libertà e ciò che dà libertà all'intelligenza è un'unione l'unione profonda di questa dimensione cosa avviene cosa avviene quando secondo punto quando parliamo dell'ispirazione eccoci qui già l'ho detto all'inizio insomma nel mio come chiamarlo preludio ma lo riprendo l'ispirazione è la nostra libertà che viene fecondata come d'altrove e guardate che non ha un'origine religioso che sappia io che sappia io un'origine religiosa il concetto di ispirazione ha un'origine letteraria per lo meno per quanto riguarda la cultura occidentale la prima opera della cultura occidentale è l'Iliade che è giunta a noi insomma e come comincia l'Iliade cantami Odea l'ira di Achille figlio di Peleo poi viene l'Odissea e come comincia l'Odissea narrami o Musa dell'uomo multiforme che dopo aver distrutto la sacra rocca di Troia vagò e poi continua e dopo Omero viene Esiodo ed Esiodo scrive la Teogonia e se voi leggete Teogonia 1 1 ritrovate le Muse e se voi leggete le opere i giorni la seconda opera di Esiodo Erga Caia e Mera opere i giorni voi ritrovate ancora una volta le Muse e se percorrete tutta la grande letteratura classica e moderna passate per Dante passate per Shakespeare arrivate a Goethe vedete che questi grandi tutti hanno l'invocazione alla Musa persino Lucrezio Lucrezio che nel De Re Runnatura Lucrezio che scrive delle pagine voi tutti lo sapete piene di come chiamarla di di astio possiamo dire astio di collera insomma polemiche nei confronti della religione per il sacrificio di Figenia persino Lucrezio non può fare a meno di cominciare il suo poema con l'inno a Venere anche perché è un conto della religione la religio è un conto della spiritualità è evidente quindi che cosa sto dicendo sto dicendo che anzitutto il concetto di ispirazione nasce in ambito letterario ma io penso che sia nato in ambito artistico non abbiamo mentre abbiamo i testi scritti degli antichi i loro cd i loro dischi le loro incisioni musicali queste non sono pervenute a noi ma io penso che è la stessa cosa e non a caso chi sono i patroni della musica gli dèi appunto ancora una volta Apollo Marsia che non era un dio un semidio ma insomma e poi naturalmente ci sono le religioni che si appropriano del concetto di ispirazione avete i libri sacri cosiddetti ispirati poi su questo tornerò certo i libri sacri poi non solo i libri sacri ci sono anche le vocazioni le persone religiose che dicono di avere la vocazione cosa vuol dire avere la vocazione avere la vocazione perdere la vocazione sentire la vocazione adesso non entriamo in questo ma certamente vocazione significa chiamata e certamente abbiamo a che fare con una voce che non è la voce ordinaria abbiamo a che fare con una voce che potremmo dire spirituale e quindi che la vocazione è legata naturalmente al fenomeno è una declinazione del più ampio fenomeno che si chiama ispirazione quando i cardinali si chiudono in conclave e pregano lo spirito creatore veni creator spiritus si ritiene che siano ispirati nell'eleggere il papa se uno guarda la storia della chiesa dice beh insomma qualche volta può essere così forse qualche volta no qualche volta non sono stati così obbedienti allo spirito forse ragionavano in tanti secoli più per motivazioni politiche così forse non so io non c'ero però ecco guardando la storia della chiesa non proprio tutti i papi sono fenomeni di grande e tuttavia e tuttavia adesso al di là poi dell'esemplificazione concreta rimane il fatto che si invoca lo spirito perché è conclave e questo che vale per la religione cristiana vale a qualche modo per tutte le religioni e poi il discorso dell'ispirazione oltre che all'arte alla musica alla poesia oltre che alla dimensione religiosa così come ho detto riguarda la vita si dice no oggi sono ispirato ho fatto un piatto cucinato e mi è venuta una cosa che non lo so neanch'io le mani lavoravano da sole quasi non saprei rifarlo è così anche di uno sportivo di un ballerino di una ballerina o di un discorso vi è mai capitato di fare un discorso e magari a vostro figlio a vostra figlia al vostro fidanzale quello che volete voi insomma a qualcuno e di dire ma guarda come fluivano le parole non sono capace di ridirlo eppure è venuto e questa è l'ispirazione sì è qualcosa di molto concreto esperienze che viviamo come anche il contrario e adesso arrivo cioè momenti in cui non hai l'ispirazione momenti in cui non ti viene bene niente non c'è fluidità non c'è connessione non sei connesso con l'energia della vita e non sei capace di parlare le parole ti muoiono in bocca e quelle cose che solitamente sai fare non le sai fare più in quel momento non vengono non è vero non succede questo e penso che la stessa cosa valga per per gli artisti la stessa cosa vale per i religiosi che hanno la vocazione poi perdono la vocazione e quello che sembrava una grande storia poi diventa una piccola tragedia va bene questo per dire che siamo al cospetto di potenze più grandi al cospetto di un flusso più grande che la spiritualità è il che cos'è Torino spiritualità la spiritualità che cos'è questo voler questo sforzo gentile uno sforzo gentile non uno sforzo ecco uno sforzo gentile c'è la dimensione di sforzo di lavoro ma c'è anche la dimensione di gentilezza di essere rilassati di respirare serenamente ma insomma lo sforzo gentile è di rimanere connessi con le potenze vitali con le potenze vitali che mi ispirano e che mi rendono sereno e che aprono la mia intelligenza e che aprono il mio cuore e il mio cuore invece di essere ristretto di distringersi e di avere paura si allarga e respira e ha meno paura e tira un respiro di sollievo e si apre e guarda e guardando col cuore noi possiamo vedere tante di quelle cose che guardando senza cuore noi invece non si vedono se si guardasse col cuore quante cose che si vedono a partire dalle persone che ci stanno attorno che ci sembrano cattive e che magari sono cattive ma se guardi col cuore capisci che sono captive cioè prigioniere cioè stanno soffrendo se sono così aggressive perché sono prigioniere chissà quanto astio chissà quanto dolore chissà quante batoste dalla vita hanno preso per essere così e allora certo mi devo difendere dalle persone cattive ma se sciolgo dentro di me l'aggressività forse anche l'aggressività di quella persona cattiva si scioglie e si comincia un'altra visione un'altra storia un'altra prospettiva un'altra relazione insomma spiritualità è rimanere connessi è connessione con il flusso creativo la terza cosa che vi voglio dire riguarda l'ispirazione negativa che si può chiamare tentazione per tentazione in questo caso io non intendo guardate le tentazioni ordinarie che si spiegano da sé tentazioni ordinarie che si spiegano da sé non so le prime che mi vengono in mente il potere che uno voglia avere potere il piacere vedere un bel corpo di una bella donna di un bell'uomo a seconda dell'orientamento sessuale sentire attrazione si spiega da sé che altro c'è il piacere il potere la ricchezza naturalmente poter voler avere di più la casa più grande la villa più grande più grande di quello che del vicino perché è così più grande la macchina va bene cose ovvie intendo piuttosto le tentazioni strane cioè quelle tentazioni che si che sono cattive che non vogliono godere di più la lussuria la gola queste cose che sono molto umane tutto sommato e che va bene no quelle cose che non hanno che non guadagni niente se non il piacere del male altrui schadenfreude dicono i tedeschi c'è proprio la la gioia che ti viene dal dolore altrui dall'umiliazione altrui tu non guadagni niente non è che ti dici oh eh certo ho fatto l'amore con una donna bellissima e va bene no non succede niente non guadagni nulla non hai mangiato una fetta di torta spettacolare non hai niente non guadagni niente e tuttavia godi interiormente del dolore altrui capita siamo capaci di questo avete qualche esperienza avete provato dentro di voi questa cosa l'avete provata oppure avete provato a essere oggetto di questa cosa sto parlando di qualcosa di concreto di reale ecco io dico da dove vengono queste cose non sono forse ispirazioni negative non sono legate lo ripeto alla cupidigia ordinaria che si spiega da sé no sono ispirazioni negative sì tentazioni ma tentazioni che 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 toccano proprio come dire quella la volontà di maligna la maligna la malignità il male radicale Kant ha scritto un saggio bellissimo bellissimo come tutto quello che ha scritto del resto das radicale il male radicale nel senso che c'è proprio una radice un figmento malum una radice di male io non credo al peccato originale a una colpa originaria non credo ma l'ho scritto nei miei libri insomma l'ho raccommentato adesso non c'è tempo per dire perché che come ma questo non mi porta ad avere nei confronti della natura umana una considerazione ottimista no l'ho detto prima siamo siamo ambiguità siamo spirito santo capace di santità di relazione creatività eccetera siamo spirito immondo Dio può non esistere il diavolo può non esistere di sicuro esiste la divinità e la diabolicità dentro di noi questo è sicuro e così come esistono l'ispirazione verso la divinità e trovi un uomo che non ti sembra più neanche un uomo una donna che non ti sembra più neanche una donna e pensi che abbia l'aureola e la vedi la vedi l'aureola la luminosità degli occhi l'aureola è presente nel cristianesimo è presente nel 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 buddismo avete presente tutte le aureole del Buddha è presente nell'induismo e non fa nient'altro che manifestare in quella maniera un po' ingenua se volete ma bellissima la particolare luminosità che alcuni esseri umani giungono ad avere è chiaro che sì e siccome sono a Torino che era la sua città io non posso anche ieri sera non fare il nome di Carlo Maria Martini perché perché quando a me capitava di essere alla sua presenza non era solo per gli occhi azzurri ai quali io peraltro ero abituato perché era il colore azzurro degli occhi di mio padre quindi fin da bambino ho visto occhi azzurri e di mia nonna e così via non è quello è che gli occhi azzurri di Martini non erano gli stessi occhi azzurri di mio padre era proprio una luce diversa una luce diversa una luce buona una luce calva una luce intelligente avvolgente attenta buona una luce diversa e tu vedevi una persona e allo stesso modo allo stesso modo esiste una luce oscura esiste una una perversione esiste una una diabolicità delle certo che sì che esiste questa cosa pure Iago Otello William Shakespeare la figura di Iago per esempio oppure le pagine che Dostoevsky dedica a Stavrogin nei demoni o demoni come mi è stato detto che meglio si dovrebbe dire non tanto i demoni come noi diciamo per lo più traduciamo così il romanzo di Dostoevsky in italiano il titolo i demoni perché di per sé i demoni sono appunto già anche Marco Aurelio aveva il demone anche Socrate aveva il demone ecco non è tanto questo quanto proprio i demoni e lì c'è proprio un male che non si spiega se non per una ispirazione perché di per sé non ci guadagna niente è un'ispirazione di chi? e qui i testi sacri tentano di dire qualcosa non so Genesi 3 che introduce il serpente pensate a Giobbe la figura del Satana pensate alle tentazioni di Gesù Matteo 4 Luca 4 le tentazioni del diavolo che si presenta quindi quindi esiste la figura una figura del tentatore ma quello che è ancora più incredibile leggendo le sacre scritture è che anche Dio appare come tentatore anche Dio tenta adesso noi siamo portati a eliminare queste pagine di oscurità non vengono lette nella liturgia e se vengono se ci sono vengono tagliuzzate perché non tutte quelle che si legge in chiesa la pagina biblica no spesso se no questo è un po' e si taglia e quello che si legge è tutto come dire su un certo tipo perché la Bibbia è un testo un po' particolare ecco ma se voi leggete la Bibbia sia il cosiddetto antico testamento le scritture ebraiche sia le scritture cristiane il cosiddetto nuovo testamento beh voi vedete delle cose strane vedete per esempio che Dio indurisce il faraone il cuore del faraone il faraone quasi sarebbe portato a dire agli ebrei ma si che tornino a casa no Dio lo indurisce il cuore ma com'è che indurisce il cuore perché perché lo rende cattivo non potrebbe al contrario l'ispirazione di Dio non dovrebbe rendere il cuore morbido eppure leggi il libro dell'esodo e vedi come più di una volta viene ripetito e Dio indurì il cuore del faraone ma perché ed è solo un esempio ma ce ne sono anche altri tant'è che San Paolo scrive nel capitolo 9 della lettera ai Romani versetto 18 ricordatevi 9-18 che poi è il doppio quindi 9-18 è uno dei versetti del Nuovo Testamento tra i più sconvolgenti sconvolse Agostino Agostino quando si imbatte in questo cambiò cambiò la teologia in peggio la cambiò secondo me Dio ha misericordia di chi vuole avere misericordia e indurisce quelli di cui vuole che vuole indurire lo dico così ho qui il Nuovo Testamento posso leggervelo in maniera visto che ho fatto proprio la citazione la prendo ma è così come ve l'ho detta ma in ogni caso leggiamola così dunque gli fa misericordia chi vuole e indurisce chi vuole perché? c'è forse un merito c'è forse un demerito non abbiamo a che fare con un tentatore un po' bizzarro e perché deve indurire un essere umano perché deve indurirlo capisco che deve avere misericordia il suo mestiere si chiama Dio che abbia misericordia è giusto ma perché deve indurirlo eppure è scritto e infatti a partire da questo versetto Agostino diventa agostiniano cioè genera la teoria della predestinazione dell'elezione di alcuni e della predestinazione di altri all'inferno e indurisce qual è l'immagine di Dio che passa qual è l'essenza di Dio che passa e forse il bene in questo caso no non è il bene non è l'amore qual è l'essenza di questo Dio l'essenza di questo Dio si chiama volontà di potenza Wille zur Macht direbbe Friedrich Nietzsche Voluntas tra questo Dio che è il Dio di cui parla San Paolo non è che c'è bisogno di andare a riferirsi a Yahweh delle scritture ebraiche e dici vabbè no qui siamo nel pieno testamento nel pieno del nuovo testamento quindi niente era semplicemente per dire tant'è che il Padre Nostro ecco venendo anche venendo anche a Gesù la preghiera del Padre Nostro di cui si è parlato perché si è cambiata la traduzione la Chiesa si dice in maniera diversa di Matteo 6.13 Kai me esenenke semas est operasmon e apotup estomperasmon e non estomperasmon è così e non ci indurre in tentazione et nenos inducas in tentazione il senso greco del termine questo esenenke semas est operasmon questo dice esattamente il non ci indurre c'è proprio questo indurre infatti è così che traduce la vulgata non ci indurre in tentazione e così noi abbiamo pregato per secoli sei certo adesso questo risulta strano e uno dice Dio come ci può indurre in tentazione e quindi è stato cambiato non ci abbandonare alla tentazione ma il senso letterale di questo verbo io l'ho controllato controllato con il dizionario greco con concordanze il senso è proprio quello dell'induzione del condurre indurre nel senso di condurre di guidare di indurire va bene quindi questo per dire che noi siamo al cospetto delle potenze delle potenze che ci ispirano verso il bene ma possono anche secondo questa interpretazione ispirare al male secondo questa interpretazione il mio Dio non è così il mio Dio è pura luce è puro bene quindi io non penso che l'ispirazione possa arrivare da Dio però rimane il fatto che il fenomeno della diabolicità umana il fenomeno umano di coloro che vogliono il male per il male questo si dà questo avviene del piacere del male questo si dà e quindi in questo elenco dello spirito spiritualità ispirazione non potevo nel preparare queste cose non soffermarmi anche sull'ispirazione negativa infine quarto momento riguarda i luoghi dell'ispirazione come dicevo i luoghi i momenti dell'ispirazione le vie dove dove ci possiamo conne come ci possiamo connettere come se l'ispirazione è questa grande connessione questo rimanere connessi con l'energia vitale con l'energia creativa sto parlando naturalmente dell'ispirazione buona dell'ispirazione giusta ecco se l'ispirazione è questo come faccio ma io rispondo dicendo si trova l'ispirazione si può trovare l'ispirazione frequentando luoghi momenti testi ispirati cioè noi possiamo ottenere la possibilità di esporci al flusso generatore della creatività e della vita facendo esperienza quotidiana di testi di persone di luoghi di occasioni che sono il frutto dell'ispirazione più io mi nutro di testi di musiche di persone di esperienze di occasioni che sono state generate dall'ispirazione positiva più faccio questo più a mia volta potrò essere toccato da questo fenomeno ed essere capace a mia volta di generare in concreto io qui ho scritto alcune cose per esempio libri sacri vedete la lettura è un grande fenomeno ma non tutti i libri sono ispirati non tutti i libri sono ispiratori io per libri sacri non intendo necessariamente i testi delle grandi religioni perché la mia idea molto eretica è che non tutta la Bibbia è parola di Dio la mia idea è che la Bibbia non è la parola di Dio la Bibbia contiene la parola di Dio nel senso che alcune pagine lo sono sono effettivamente ispirate sono tali da generare giustizia amore benevolenza e come tale sono vengono dallo Spirito Santo i cui frutti i frutti dello Spirito Santo sono esattamente l'amore l'armonia la benevolenza la giustizia il senso di fratellanza di tolleranza di amicizia ma ci sono altre pagine bibliche che sono il contrario che producono intolleranza cattiveria terrore terrore dentro di noi paure angosce o altre che producono solo noia le leggi le leggi una noia infinita di elenchi di cose e lì io mi permetto di dire non c'è nessuna non c'è ispirazione la parola di Dio non è una parola nel senso letterale del termine è un'azione è un evento è qualcosa che succede è un'idea che arriva una visione è una forza che arriva che ti fa scavalcare un recinto un muro un muro mentale vedevi sempre nero tramite questa forza che ti arriva comincia a vedere diversamente e quindi riesci anche a vedere gli altri diversamente quel tuo vicino quella tua vicina quel tuo professore quello che sia lo vedi ti comporti diversamente ti comporti diversamente perché una forza diversa ti penetra ti compenetra ti trascina questa è parola di Dio è un'azione qualcosa che si fa e che produce armonia e ci sono pagine bibliche che sono in questa prospettiva ma ce ne sono altre che no e ci sono testi che non sono sacri delle altre religioni che non sono che non fanno parte della Bibbia che sono parola di Dio se voi leggete il Dhammapada per prendere Bhagavad Gita fare due esempi uno di origine buddista l'altro di origine hinduista voi avete a che fare con pagine assolutamente ispirate che vi rendono più gentili più buoni più attenti più intelligenti di quell'intelligenza spirituale profonda a cui facevo riferimento prima ma non solo i testi cosiddetti sacri ci sono anche testi letterari testi filosofici che secondo me sono sacri che sono ispirati se voi leggete l'apologia di Socrate di Platone secondo me avete a che fare con un testo ispirato quando Platone dice ai 500 teniesi che lo stavano giudicando e che l'avrebbero presto condannato a morte ma lui non lo sapeva potevano condannarlo o non condannarlo e tuttavia dice è più giusto devo obbedire a Dio e non a voi parole che poi riprenderà l'apostolo Pietro non so se consapevolmente o meno Luca scrivendo gli atti degli apostoli fa dire a Pietro bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini sono le stesse parole che Socrate disse 500 anni prima a agli ateniesi alla boulet dei 500 cittadini ateniesi che trasformate in tribunale e che poi l'avrebbe condannato a morte e che cos'è questo se non appunto una parola sacra anche se non è nella Bibbia ecco se noi ci nutriamo di questi testi noi a nostra volta diventiamo ispirati possiamo ispirarci poi brevemente perché il tempo ormai è finito la natura la natura io sono assolutamente convinto che la natura sia un luogo di continua penetrazione dell'energia divina sul nostro pianeta di questo continuo flusso informativo che fa sì che dal caos dell'energia primordiale si produca ordine e si produca vita sistemi armonia non ho una visione solo bucolica della natura come Arcadia so benissimo di quanto conflitto di quanto sangue sia fatta la natura di quanto di quanto dolore e tutto quanto e tuttavia per me guardare la vita animale guardare la vita vegetale guardare contemplare i panorami i panorami che si possono che potete chiamare mare che potete chiamare monti potete chiamare cielo è una grande fonte di ispirazione e penso che anche per chiunque tutti voi c'è tutta l'arte c'è tutta la poesia universale a dire che il contatto con la natura è altamente ispiratore poi naturalmente c'è l'arte la grande musica che lava e protegge e custodisce e illumina le nostre anime come se fossi un angelo angelo di dio che sei il mio custode illumina custodisci regge e governa me la grande musica è così ci illumina ci custodisce ci guida ci protegge la grande musica e poi c'è ci sono c'è l'amicizia c'è l'amore c'è anche il dolore c'è anche il dolore in ogni caso sono le situazioni limite dell'esistenza capite le situazioni limite dell'esistenza sono luoghi di ispirazione a volte il dolore ti distrugge chiaro che sì ma a volte un grande dolore è un momento di ispirazione ti fa fare delle cose ti fa ti fa intraprendere delle imprese ti porta ad agire a pensare a volere in un modo che naturalmente tu non faresti io conosco genitori madri padri che avendo avuto malattie dei figli figli malati hanno trasformato profondamente la loro vita sono diventate persone diverse più luminose più giuste più vere questo intendo dire che tutte le situazioni limite quelle che Carly Aspers chiama situazioni limite grand situazione no le situazioni limite sono potenzialmente generative di ispirazione i grandi amori le grandi amicizie ma anche ripeto e questo sono ovvie per questo non mi sono soffermato ma anche i grandi dolori questo uno non significa che ce li dobbiamo andare a cercare è chiaro che no ma significa che anche il dolore consegna qualcosa lo diceva già Eschilo nel prologo dell'Agamennone qualcuno di voi lo ricorda la grande legge che Zeus diede ai mortali che solamente attraverso pazos ai mathos mathos e viene la stessa radice da matematica quindi che viene appunto comprensione qualcosa che si comprende ma questo mathos viene solamente attraverso pathos il patire o se volete la passione anche non solo il patire nel senso del soffrire ma anche il patire nel senso di sentire passione difatti voi le cose le capite veramente quando vi appassionate da quell'importanza dell'intelligenza emotiva la capacità dell'empatia da qui il senso che i grandi professori sono quelli che appassionano e i pessimi professori sono quelli che pur sapendo memoria tutta la loro materia non appassionano deprimano iniziano a parlare e già uno guarda l'orologio quando è che finisce? bene io ho finito di parlare grazie dell'attenzione grazie 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 grazie